Il mio primo coming out è stato molto emozionante e quasi adrenalinico. Mi ha aiutato a chiudere un cerchio di insicurezze e di paure rispetto alla visibilità e mi ha portato a iniziare un percorso di autodeterminazione e di orgoglio per la persona che sono anche rispetto al mio orientamento sessuale.